Amici Youtube, sono Pepino Audace Oggi vi andrò a dare le pagelle di Juve Stabia Audace Cerniola Partita che si è disputata ieri Al Domenico Monterisi Al Romeo Menti Ieri È stata la trentottesima giornata Della campionata di Serie C Girone C Vi andrò a dare tutte le pagelle Come sempre Della Audace Cerniola Partita che È stata È finita su 2 a 2 Quindi sarà poi l'altra partita domenica Allora, iniziare da Saracco Voto 6 e mezzo Peccato per Quei gol presi Però un gran secondo tempo Di Saracco Fatto qualche buona parata Salvando L'Audace Da possibili 3 o 4 gol Poi c'è Jimmy Allegrini Voto 6 e mezzo All'inizio Un po' Non bello Da parte della difesa L'Audace Ma poi ci siamo ripresi Quindi Jimmy Allegrini Ha fatto buona guardia Mandava in avanti Galo Campo Maggio Il centro campo Quindi la partita di Allegrini È 6 e mezzo Poi c'è Ligi 6 Che lui Il primo tempo I primi 20 minuti Non c'era Poi ha fatto Una buona partita Quindi c'è Buona partita Ha cercato di rimareare Agli errori Dei primi minuti Ed è Il mio voto È 6 Luca Russo 6 e mezzo Che Ieri Lucone Russo Ha giocato molto bene Ma in realtà I primi 20 minuti Tutta la squadra Ha giocato male Ne ha risentito E poi Dal ventesimo in poi L'Audace Ha giocato meglio E quindi Tutti i giocatori Hanno iniziato Ad alzare i voti Per quello che Luca Russo Do 6 e mezzo Raffaele Bianco 5 e mezzo È onesto Non Come mi ha detto Il mio amico Giancarlo Malcò Il mio amico Giancarlo Strafezza Non c'è Ancora Raffaele Bianco Per quello che Mister Pazienza Ha dovuto toglierlo E mettere poi Michele D'Ausilio In realtà Io darei 5 Però Insomma Vorrei Essere un po' più Onesto Con Bianco Dando del 5 e mezzo Qualcosa ha fatto Ma È in piena difficoltà Bianco Sostituito da Michele D'Ausilio 6 e mezzo È il solito D'Ausilio Quando entra Si accende La squadra È molto brava Nell'uno contro uno La squadra Veramente Con Poi mettendo D'Ausilio Coccia Sainz Mazza Poi Gli inserimenti Di Aschik Nel secondo tempo La squadra Ha veramente Giocato un grandissimo Secondo tempo Abbiamo sfiorato Anche la vittoria Quindi secondo me Questi giocatori Dovrebbero giocare Titolari Nel primo turno Di Dei playoff Sto parlando Di D'Ausilio Sto parlando Di Aschik Quindi Questa gente Deve giocare Tascone Che ieri Non è entrato Quindi L'audace Deve giocare Con questi giocatori Se Vuole pensare Di battere La Juve Stabia A ritorno Perché veramente La Juve Stabia Ieri Ha giocato Veramente bene Ha fatto una partita Veramente Come se fosse Una finale Quindi Deve essere Anche per noi Domenica 30 aprile Al Monterisi Tra l'altro Tutti a Basso Camp Tutti allo stadio Dobbiamo Difare I nostri colori Giallo blu Perché La squadra Ha bisogno Di sostegno Per il primo turno Di Di Playoff Continuiamo Con le pagelle Passando a Galo Campomaggio Voto 7 Il gol Ma La grandissima partita Ha fatto L'esterno alto Ha andato a aiutare Molto Il centrocampo E veramente Io come dico E sempre Lisandro Martinez È un terzino Ma che si può alzare A centrocampista Grande Galo Continua così Coccia Voto 6 e mezzo Anche lui Buona partita Mi è piaciuto Anche ieri Peppe Coccia 6 e mezzo Sainz Mazza 6 Per i minuti Non è partito bene Poi Con L'ingresso Di Dausilio Con l'ingresso Di Aschic Con l'ingresso Di Zac Ruggero È cambiato Sainz Mazza Si è acceso E quindi Non potevo Dargli meno Di 6 L'angella 6 Anche lui Buona partita Ma deve cercare Di fare meglio Le ultime partite Ha fatto meglio Trovando il gol Anche contro Latina Ma deve fare Ancora meglio L'angella D'Andrea 6 Si deve rimettere In condizione Pippo D'Andrea Io spero che Riesca a sbloccarsi Proprio con la US Tabbia Al Monterisi E deve cercare Di fare Anche lui Di riprendersi Poi Giancarlo Malcore Voto 7 Il gol Del 2 a 2 Sulla respinta Per l'Oland Dell'Ofanto Ha fatto un Grandissimo gol Quindi il mio Voto di 7 I sostituiti Zac Ruggero 6 Buono Zac Ruggero Ha fatto una Buonissima partita 6 Aschic 7 Non potevo Dargli meno Di 6 Ad Aschic Ma si è visto Sinceramente Poco Però va bene Il 7 E Gioffre Che purtroppo Non posso dare voto È entrato Al 92 Quindi Mi dispiace Per Gioffre Però L'importante È aver ritrovato Anche Gioffre Fatemi sapere Poi nei commenti Le votazioni Che potete dare voi Se sono giuste Le votazioni Non sono giuste Io Mi riferisco Anche ai tifosi Dell'audace Cerignola Agli Ultras Ai Fedelissimi Ragazzi Io stavo pensando Seriamente Di andarla a vedere Questa partita Allo stadio Quella di domenica 30 aprile Perché è una partita Importantissima Però Non lo so Non so se riesca Ad andare In caso contrario Farò qualche video Se andrò in Puglia È veramente Una partita Importantissima E non bisogna Perderla In caso contrario Ci sarà Eleven In The Zone Sky Che trasmetteranno Queste partite Quindi A tutti i tifosi Giallo Blu Di andare O nei bar O allo stadio A riempirlo Perché dobbiamo Vincere contro La Juve Stabia E dobbiamo Cercare di andare Il più avanti Possibile In Questa Post season Quindi Forza Audace Cerignola Iscrivetevi Al canale Un saluto Da Pepino Audace E sempre Forza Gnola